Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo posto, Varese in corsia numero 5, terzo Genova, acqua 1, quarto Genova, acqua 3 e quinto Como, acqua numero 2. Vanno così a concludersi le prove di Coppa Italia nelle acque di Genova Bra. È stata veramente una bellissima giornata di sfide per i comitati di Varese, Como e Genova in questa manifestazione organizzata dal club sportivo Urania del presidente Guido Dioguardi e tutto il suo... Grazie a tutti.